Ora tocca a te, il tuo voto è la linfa del cambiamento, il motore della rinascita, la lettera d'amore a una città abbandonata. No ragazzi, fermi tutti. Ah Francesco, ma di che stiamo a parlare? Ma io sto in mezzo alla gente a parlare la mattina e la sera di programma, di buche, di olimpiadi e devo stare a pensare alla lettera d'amore a una città abbandonata, ma di che stiamo a parlare? Ma che sono, un attore io, è una telenovela. Dai, Robè, vi è qua, dai. Ma fatemi il piacere, va.